In un anno le perdite di acqua sono diminuite del 12%, recuperando in media 120 litri d'acqua al secondo. Inoltre è stata ridotta del 20% anche le emissioni in rete, con un risparmio di 200 litri al secondo. Questi investimenti che noi facciamo sulle infrastrutture, sull'acquedotto 4.0, che facciamo partendo da Prato, ci consente di prevenire, ci consente di migliorare, di arrivare, questo è il nostro obiettivo, addirittura prima del cittadino sulla segnalazione delle perdite. Noi siamo in grado ad oggi di geolocalizzare, di individuare una perdita con un raggio di azione di circa 50 metri. Quindi noi attraverso l'utilizzo di queste tecnologie riusciamo a raggiungere una efficienza, un'efficacia che ad oggi è unica nel nostro paese. Publiacqua sta investendo anche sullo sfruttamento della falda, con l'obiettivo di rendere Prato indipendente. Le nuove tecnologie sono utilizzate anche per gestire i sette fontanelli di acqua pubblica, in modo da programmare la manutenzione, ma anche di intervenire per tempo nel rifornimento di anidride carbonica. Ci saranno due interventi importanti, cioè due tratti di acquedotto completamente rinnovati. Quindi non si sta parlando di sostituzione di un piccolo tratto di tubo, ma di un chilometro in via Cantagallo e altrettanti in via Ciliani. E quindi si tratta di tratti importanti di acquedotto in un investimento nel rinnovamento della rete, che erano anni, penso più di dieci anni, che non si vedevano a Prato. Perché sarà un lavoro che durerà nel tempo, durerà sicuramente dei mesi, e quindi porterà anche dei disagi, ma dopo porterà dei grossi benefici. Nessuna novità sul fronte delle tariffe. È stato completato il rimborso nelle bollette. Credo l'importante sia tramutare queste tariffe molto alte in investimenti, quindi in servizio.